vale ci siamo per domani ormai tutto pronto tutto pronto guarda che tramonto è quasi più bravo di te che siamo anime in perfette ma perfette per amarti insieme io e te abbiamo capito che siamo anime in perfette ho Jormala sono molto felice per questo secondo sold out e can't wait for tonight ciao grazie a tutti grazie a tutti